Siamo tornati in grande attesa con un video con un amico in più Bad Wars Bad Wars Bad Wars Lo conoscete già a Publac Pablo il grande C'è anche Alex No il vino Che ha una skin molto promettente A me non mi conosco Lui è il nostro pro delle Bad Wars È il nostro pro delle Bad Wars È un pro delle Bad Wars Bella a tutti i ragazzi Mi chiamo Alex Sono un pro Abbastanza No 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 Oh raga sono tornati champion Sono tornati questi qua con le skin nei I nei Posso dirlo? Però sono troppo me meno no a dirlo Oh ragazzi c'è un owner C'è un owner Ma è uscito Ok va bene lo stesso YouTube nostro Vabbè è forte Però è uscito Si stava facendo video E siamo comparsi nel suo video Va bene Io no eh Cioè No il tuo non è importante No scherzo Scherzo No Con te lo stiamo facendo Quindi non è che Non viene più compiato Non è che Non è che Non è che speciale Pablo Pablo Sto facendo Beh no no Fammi fare a me Dai 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 Hai visto Sono stato bravo Vero Eh si 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 Molto bravo Molto bravo Pablo mi è quasi fatto cadere Sono stato bravo Vedi cosa fanno loro? Noi dobbiamo imparare Nelle 3 contro 3 Ad aspettare fino a 12 di oro Così ci prendiamo l'armatura E tutto quello che ci serve Perché queste sono le Sono quelli forti Sono quelli molto forti Uno voidato Uno voidato Uno voidato Arrivano in base Arrivano in base Ci fanno il letto Vedo 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 No 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 È troppo forte C'è un'armatura in ferro No no C'è un'altro Ragazzi Io esplodo Io esplodo Io esplodo E andateci voi Qua c'è C'è il legno Ok per fortuna Il loro attacco non è Voluto Non è andato come Come speravano Ok 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 Avete fatto C'è un altro Vai Vuoi dall'unica Sì 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 Ah Vi dico solo che sono Ragazzi Niente Una cosa come mezzo cuore No Mi sa che mi ha Un po' Ucciso Raga cercate di tenerli Che mi devo fare l'armatura Perché così non riesco a vivere Ok Dov'è 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 E qua No lo stac Perché lo drop È qui raga Ah Arriviamo Arriviamo Ci siamo Ci siamo Eccolo Ecco Coffee Sali Coffee Sali Sali Buttatevi 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 addosso Buttatevi addosso Ecco Coffee Se ti sposti un po' Non mi fa piazzare i blocchi Non puoi piazzare i blocchi Non puoi piazzare i blocchi Non puoi piazzare i blocchi E spadateli Così cadono nel void Vai 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 No Pablo Coffee però ti Ti devi togliere Non riusci a piazzare i blocchi Ora ho due cuori No 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 Sono tutti sul tetto Eh c'è No ma dai E' questo che ci ha Che ci ha fatto il letto Eh ci ha fatto il letto Ma dai Prova a farne uno Oddio Niente Mi void Mi void Mi sono voidato da solo Che pizza Ci sono di nuovo quelli No Coffee però Se non hai più blocchi Devi andare giù Perché non riuscivo a piazzarli No ma proprio era l'altezza Che non puoi piazzarli Cioè come Coffee Sai come devi chiamare il video Siamo bullizzati Dai pro Di Di Framè in una partita Framè in una A parentesi Siamo bullizzati Dai pro Di 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 Questa Questa è la buona Questa è la buona Vai Coffee tu proteggi Spostati Fire Inquisitor Che mi stai Scrostando Mi stai Tranquillo Vabbè Ma la foto di me In F5 ti serviva per Per la copertina di video Certo Cosa pensi Eh Certo Sì Artux No Let's go Let's go Let's go Ho fatto Il corpo Ora sono Ora gioco serio Dai Le Sacre parole Ora gioco serio Cosa dicevi Tu fratello maggiore Contro di lui Tu serio E' vero Gli altri sono già morti Ma Allora venite Trappi dai rossi Un attimo Io sono Mi fai Mi fai Oh godo Ne ho trappato uno Oh cazzo No no Pablo No Pablo Non mi fai passare i blocchi Ho sbagliato Niente No Volevo prendermi Pablo spostati Mi sono preso Quattro stack di Di blocchi Volevo prendermi la fireball Fireball Sì Coffee Perfetto 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 No Sono salvato No questa deve essere La clip del 2024 24-5 Cos'è che hai fatto Cos'è che hai fatto Giuro te Aia 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 Oddio Ero caduto nel vuoto E niente Mi sono salvato L'ho detto che giocavo serio Arrivano 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 Però l'armatura Pablo Io scappo Eh ma io Non mi aspettavo Tu spawnassi così in fretta Ma c'è scritto in chat Che sono morto Subito dopo di te Sto arrivando eh Io ho due diamanti Mi prendo qualcosina Così c'è la fireball sai Non posso prendere niente No niente Uno l'ha fatto Uno l'ha fatto Uno l'ha fatta Eh io ho bullizzato l'altro però Bullizza l'altro Arrivano eh Se no veniamo bullizzati dai rossi Uno è bullizzato Cioè uno che è bullizzabile Ne ho bullizzato l'altro Bullizzato l'altro Bullizzato l'altro Bravo Bravo Cerco di fare muro al centro Sto facendo un ponte Ausiliare Ausiliare del verbo essere Qual è? Boh Eh Ausiliare è Stato Molessi dei tanti No l'ausiliare non è stato E fossi Svegliati Lascia stare Oddio ne ho avoidato uno Sì 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 la mia missione è successa E poi aveva la storia in ferro Tu mi ha fatto sprecare i spetti di oro Nooo Io esplodo Se salvò pure questo esplode un po' brutto Dai 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 Di sotto Ok Ciao Ciao Dai Dai Tu domi Quindi Ma do che rumoro I no Rumor I no Interessante E niente Mi hanno fatto Ma però questa partita è un po' più È più facile bullizzare gli altri Cioè devo dire Chissà perché È un po' più semplice Eh no scherzavo E cofie arrivano Che arrivano Ci sono due grandi Sì 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 le go Che grandi Qualcuno pensa che vuole prendere i diamanti Una volta che hai centrato una farbo Uno sta arrivando ma è È lui Infatti non sta arrivando Non sta arrivando Ok ok l'ho visto L'ho visto Però c'è anche un po' lato credo Ah no Che trovo Va bene Un po' diamanti in cesta Raga pensiamo a farle altri però Pensiamo ai diamanti Due diamanti abbiamo sharp E riusciamo a ucciderli Ma quasi un ponte ausiliario Che aveva spreso Obliterato Obliterato Cofie pensa ai tuoi diamanti Io c'ho tre diamanti in cesta Io sento rumori in casa Il bello è che Non è quattro nell'altra Nella cesta comune Ce ne sono quattro Raga fate qualcosa Ho uno scacco assurdo Aia 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 Vengo ignorato tuttamente dai miei amici Con madri super mega E per ultra buoni Arriva uno Io sto scappando come Un miserabile Ah Vedo vedo No da questo sharp gli ho fatto un po' di danno Ado dicendo Vabbè vabbè Adesso andiamo 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 Vieni vieni Andiamo Vieni nella battlefield Nella battlefield Non sono in base vero Perché non mi ha saltato No 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 ne abbiamo obliterato io e coffee Bravo Oh con un diamante mi prendo una trappola Se costano poco Sì Mining fatigue Vai Mi ha sparato una Sono fermo da due secondi Essendo distratto Ma c'è un lampa Sì Un gradito Un gradito Un gradito Un gradito Mi dispi Vai 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 Andiamo Andiamo No Cosa sta succedendo Ti ha salvato Ti ha salvato coffee Ti ha salvato Grazie Sono basso però Bravo Fabio No L'ho fatto L'ho fatto Eh ma io sono Adorno Ho fatto tutto il team Ma lo stava spammando di brutto Eh l'ho spammato pure io Si chiama butterfly clicking Oh ma mi ha splittato a 22 metri Non ti ha splittato? No abbiamo splittato ma No mi hanno fatto Mi hanno fatto Mi hanno fatto Davanti alla loro base ma mi hanno fatto Va bene va bene va bene Come on me Questo easy È caduto un volto Oh c'è un altro oro C'hanno pure loro shop eh Non vorrei dire E allora noi avremo protection Tra poco Mi volessi fare Mi volessi fare Oh l'italiano scorreggiato Mi voleressi Mi voleressi E l'italiano scorreggiato Mi voleressi fare Ci sono dei diamanti Una canna Ho quattro diamanti Raga ho quattro diamanti No bra io ne ho due Poi non ho ancora E allora torniamo subito No Dai pensavo di cracciarlo Avevamo Coffee 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 Prendi un diamante Prendi un diamante Così prendiamo protection Arriva 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 Coffee è caduta È caduta è caduta è caduta Dai a Roma Dai a Roma Dai a Roma Ok Cinque diamanti protection E però allora adesso Tutti da loro Tranquillo una fireball Una fireball Alex Che cacchio fa Ho visto visto ho visto Protection vai Ok 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 perfetto Dai che voglio fare una kill Oh no Un rosso sta andando Raga andiamo da loro Andiamo da loro TNT TNT Ho la TNT Ho la TNT Sto andando da loro Sto andando da loro però E allora camperatela Coffee 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 vini Coffee vini Sto arrivando Sto arrivando Ok ne ho buttato uno Bravo Ai 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 No 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 Back up Back up Allora mi serve Del backup Sto arrivando Tre diamanti Torna indietro L'ho buttato giù L'ho buttato giù No sono lì I'm still standing Bravo Bravissimo No 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 Ma perché son morto Aspetta Splittato Ma ce n'era ancora uno vivo Aspetta No 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 Scusa Abbiamo splittato tra noi due Tranquillo Sì 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 Tra noi due sì Tra noi due sì Quindi non abbiamo Volevo splittare Volevo splittare anch'io Eh mi dispiace Adesso sono Sono messo meglio Raga ho delle mele d'oro Una fireball Proviamo Riproviamo Vai 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 Ah perché si può splittare in tre ragazzi No No Perché l'hai scoperto su lavoro Sì Te lo dico con tanta sincerità Bravo Pablo Ok No Volevo rimbalzarla a fireball Meglio tardi che mai Meglio tardi che tardi Meglio tardi che tardi Meglio tardi che tardi Oh dai Nooo Ho detto che dico che dicevano solo gli insiani del 1834 E tu che nasce? Camperate lì Camperate lì Camperate lì Camperate lì Raga uno stack di oro in base è incredibile Eh c'è uno stack Qua diamanti Qua diamanti Quelli prendo io Tronzolo Non ti preoccupare Io il portiere di una fireball Raga dobbiamo riuscire ad andare tutti e tre insieme da loro Sfondarli Aspetta facciamo prot 2 intanto Facciamo prot 2 Aspetta che rischio la vita Rischio la vita Pablo Rischio la vita Pablo Ok abbiamo prot 2 L'ho salvata di nuovo L'ho salvata di nuovo L'ho salvata di nuovo Che grande coffee No c'è l'arco c'è l'arco Eh lo vedo è proprio per questo che sta facendo La protezione esotica Però O aspettiamo che finita le Lei ha la fireball Le frecce Non ci credo Che è un'altra fireball Tento me Quanti ne ha Quanti ne ha Allora Mi box fight Ho finito le frecce Ho finito le frecce Mi boxo Andiamo andiamo Aspetta aspetta Vai corri Non è vero Non l'ha finita Mi ero boxato Ok Valle con ste frecce Me lo prendo anche io Raga Non serve rifare il ponte È abbastanza È abbastanza per passare il ponte È abbastanza fatto per passare Io ti giuro che da questo video Ci sarà È molto fatto È molto ben fatto Un po' di cocaina Ok Attenzione Mi hanno tirato una spadata Il ponte è È buono Il fraclapto Vai Vai No 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 Mi hanno No 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 Che colpo Se avevo la roba Sono passato Sono passato io Passa passa Ti vedo a fightare Sì bravo Rimani lì Rimani lì Cosa sta succedendo Ha perso l'arco Ha perso l'arco Ripeto ha perso l'arco Buono È semplicemente Vi è riuscito a farli L'ho fatto io Allora È brutto Sei smeraldi Sei smeraldi Adoltre in base Fatti lì il diamante Non me ne ero accorto No ma dai Però ste isole Che hanno i buchi In mezzo Non mi piacciono Per niente No 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 Mi ha buttato giù Mi ha buttato giù Raga dobbiamo riuscire Ad andare da loro Tramite una strada Strada Alternativa La faccio io raga Strada 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 Perché non si dice No in italiano No Non lo so In tedesco Forse In italiano Scorreggeto Si dice però Esatto Esatto In italiano In italiano scorrato Si Esatto In italiano scorrato Vai fai L'emerald bridge Arrivano Arrivano Arrivino 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 Coffi torna indietro Noi Noi li Li blocchiamo Perché loro stanno Arrivino La nostra protezione La nostra protezione No tu vai Tu vai Alex Tu vai Allora Vado 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 Uh sei invisibile Alex Bravo Ho sentito Un teletrasporto No no Aspetta Caccia c'è uno No 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 Coffi non andare ad attaccare Rimani in base Dobbiamo soltanto Bravo Alex La tattica di andare alle spalle Adesso Dalle spalle alle stelle Mission Mission impossible Bravo Alex Bravo Dalle spalle alle stelle Aia Aia Con le frecce Guarda questo infame Con le frecce Tranquilo Aspetta Ah no Ah no scherzavo No Nella casa ce ne sono sei Li ho messi io Bravo bravo Andiamo Pushiamo Pushiamo Raga abbiamo otto diamanti Su Datemi gli altri sei Così facciamo Che c'è che incasso Che c'è che incasso No non c'è E allora Mi sono messo Per cerchinare Ma sono un pazzo Dai Con sti archi Con sti camper Sti camper con gli archi Guardali Guardali Io ho un cuore Raga Un cuore Aia Un cuore Quanto danno fanno questi archi Potremmo farcele anche noi Abbiamo un casino di robe Ma io ci vi ho Mai c'è Diamanti Raga Protection 2 con 4 diamanti Aspetta un attimo Perché in base L'abbiamo The master of the palla di fuoco Quindi Mi prendo la palla di fuoco No perché Perché dobbiamo fare prot 3 Ce ne servono un casino 20 Ok raga Io mi faccio l'arco potente Ok finisco questo Ho usato un casino del nostro oro Per le frecce Oddio Mi sta persagliando di brutto Cerca di non perderle tutto No no Ne ho più di uno stack Dovrei riuscire a farli Con le ore che hai fatto Quello con power 1 Power 1 ok Quello che costa 20 di oro giusto Esatto Ok bravo Ok sono i diamanti Ho preso la posizione d'arciere Bravo bravo Salute Grazie grazie Prego prego 12 frecce Ci serve qualcuno? Io ne ho sempre No io ne ho tante Tranquillo Raga Raga andiamo adesso Andiamo 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 No è una tattica È una tattica Eh ma chi se ne frega Non hanno il letto Ah no è vero Abbiamo fatto il ponte Dall'altra parte Ragazzi Sono là sono là sono là Sono tutti là Vai 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 Allora adesso con l'arco pure Aspetta 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 No 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 senso No 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 senso Pabllo coprimi Un franzoli Caprimi un attimo Mi ha preso uno Aia Che male che male che mira hanno Pablo mettiti dietro una colonna E spara Il problema è che non ho blocchi E le colonne sono poche Anche tu, anche te Coffi, bravo. Sparato, sparato, sparato. Coffi, copriti come Pablo dietro una colonna. Non stare come... Aia. No, come ti sei salvato. Ok, ne ho preso uno. Oh, ne ho preso uno anch'io. Stai schivando, non è schivabile. Guarda, ma sono solo due. E gli altri? C'è l'altro? No! Guarda, ma sono solo due, ok. I maguti. Vai la scalettina, Coffi. Bravo, bravo. Io c'ho per farvi, provo a fare farvi jump e gli arrivo in base. Sì. Allora. Aia! Aia! Ma che no, quel cammo! Tanto, tanto. Non tanto. Ma l'arco ha fatto... L'ho preso uno, l'ho preso uno. Stavolta ho il blocco. No, ci hanno prot quattro loro. Come prot quattro? Eh sì. Io mi faccio le mele d'oro. Sette mele d'oro, sette mele d'oro. L'ho preso uno. Come è possibile che abbiano prot quattro, raga? Ma che no, quel giallo con le brecce sti qua? Ma cosa sono? Palle di fuoco. Eh sì, purtroppo sì. Ma poi quando tolgono? Perché hanno sia punch che power. Ma come è possibile? Ma non è possibile punch e power. L'arco... 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 L'arco da sei smeraldi. Non le hanno finite. O fanno finta di averle. No, non le hanno finite manco più niente. Ma ti pare? Aspetta, faccio un attimo. Sette delle... Perché di fare un ponte e prenderli da dietro, Alex? Non posso. Mentre noi riusciamo a finire le frecce. No, proprio non posso. Almeno che non mi compro l'arco anch'io. Vabbè, lo faccio anch'io. Preso uno. Devo disonorarmi. Aiaaa! Io ho l'arco incantato. Aiaaa! Non capisco come sto facendo il mio figlio. Aiaaa! Preso un altro. Vabbè, da dove mi hanno preso. Eh sì. Va bene, va bene, va bene, va bene. Io di arco... Sono molto abile. Dai a Roma, dai a Roma. Porco Pinci. È questo il canto. Ma che cacchio! Quattro frecce. Quattro frecce. Vada, 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 vai! Ci sono, ci sono, ci sono. Aspetta. Stanno tornando, stanno tornando per ricomprare altre frecce. E allora ci appropriamo dell'Isola dei Diamanti. Hanno abbandonato la trincea e noi ce ne appropriamo. Eh... Bravi, bravi, bravi. Io mi campero un attimo qua. Mi faccio un buchetto qua. E li snipero da qua. Non ci muoiono, sono 100-100 sicuro. Buildo la mia stazione. Ma che cacchio! Ho doccato l'altra, è finito. Aghia! No! No! Aghia, da dove? Ma io non ho... No, per poco, per poco, per poco. Oh, ma sti qua puzzano proprio tanto, eh. Eh, sì. Se la camperano al massimo, proprio. Lo sapevo. E poi... Non mi bastano per la spada. Non abbiamo niente. Vabbè, la spada tanto ora è diventato... Raga, no, 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 no. Ma quando sta durando? Siamo a 55 minuti, raga. Questa... Questa è 55 minuti. Eh, vabbè, delle partite le tagli, tanto. Se sono andate male. Poco! Non l'ho... Quasi buttato... L'ho quasi buttato, per favore. Madonna, raga. Sto punch 1 nell'arco fusa power, quant'è letale. Aia! Io sto schivando un botto di frecce, madonna. Oddio, l'ho preso! Alex, devi fare missioni kamikaze ogni volta. Eh, lo so. Troppo che... Fai un po' di ponte, ti buttano giù. Prendi soltanto quello che ti serve per fare il ponte quando muori. Prendi un po' di blocchi, fai un po' di ponte, poi ti buttano giù, poi torni ne fai altro. Ma non sto facendo così. Sì. I 13 diamanti abbiamo Protection 3 tra poco, eh. Perché in base ce ne sono altri 12. Ok, l'ho colpito. Aia! 25 diamanti, finalmente. 25? Possiamo fare qualcosa? Protection 3 l'ho già fatto. Ottimo. Io li sto colpendo intanto, tanto. Grazie a tutti. Sono troppo diversi da noi. Grazie a tutti di avermi graziato. Ringrazio a tutti. Perché? Cos'è successo? Non ho idea, 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 non ho idea. Cos'è che è successo? Ah, ti sarai claccato perché morti non è nulla. No, praticamente c'era un blocco dietro, mi hanno sparato col pancio e sono finito la... Se no cadevo nel vuoto. A. B. Ma da dove? A. 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 di un raro esempio di Alex stupido ahia fanno malissimo dov'è che si sono posizionati in questo momento? centro si avvicinano sempre di più a noi sperano di poterci cogliere da dietro poi e farci in quel modo poi però da vicino siamo avanti ma sono molto vicini a noi potremmo anche fare ma do che punch però è eccessivo ho scappato l'inscappabile dai però questi cittano per forza non è possibile che ti prendiano con questa precisione se ha che erano che ti devo dire se vanno su i diamanti ci sono qua 8 in base abbiamo 5 io ho 10 ok in base ne abbiamo 5 se lo colpisco 10 diamanti Pablo ti passo 10 diamanti abbiamo 15 diamanti nella cassa comune andate adesso sta facendo il giro magari li distraggo qualcosa andate adesso eh sì stanno sparando a meglio distratti perché sta andando loro da dietro sono al centro sono al centro sono al centro no 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 mi hanno fatto dai raga dobbiamo andare tutti io sono qua non ci posso far niente cosa raga nella base rossa erano pieni di robe raga nella base rossa erano pieni di robe addirittura io ho fatto spagnia di zaret non è preghiamo che c'è mi ha fatto un passo tu sei a seri gioco dai vai come la chiamata io mi ha fatto un altro ti sento io mi ha fatto un altro piani non è non è io non so se mi hanno chiesto ma cosa sta diventando fortnite sto gioco si è diventata fortnite ci stiamo in mezzo ci stiamo sparando da lontano 5 minuti e mezzo si 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 rompo nei letti tutti? tra quanto? eh c'è scritto in a... a destra ah già che knockback abbiamo 21 diamanti in base dai dai però andiamo lì e non ce la facciamo no se vincono camperando non... non è bello assolutamente si può fare un giretto eh ce l'ho appena provato pure io puoi fare un giretto piccoletto piccoletto eh si però con due ma come mi sta sparando? ma come sei sovravvissuto? com'è che siamo riusciti a uccidere il primo rosso? ok ok ma perchè è caduto nel vuoto da solo eh sennò non facciamo nemmeno lui oh ho preso uno è mancato per pochissimo dai però che schifo fanno questi sono proprio dei miei io sono qui al centro raga 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 che lo hai fatto? No no non cosa è successo? niente lo vedete nel video perché dirlo quando è che esce il video? non lo so, oh mio dio, io esplodo, io esplodo, scusate se mi hai detto lui ora, ma sto esplodendo da quello che ho fatto vabbè però con sto arco del cavolo, raga abbiamo tre minuti e mezzo, poi perdiamo, perché questi si uccidono sì, perché ci fanno, c'è qualcuno al centro? no, no, sono io al centro però, insieme a loro, no, dai, ma, dai, ho cinque smeraldi, no vabbè, ho la fireball, provo a fare qualcosa al centro ci sono io adesso, loro dove sono? sei al centro? sì mi sa che sono tornati in base per prendere si sono tornati in base e io sono nascosto, non venite, scelta tevi se venite, non dobbiamo farci scoprire sì, 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 coffee, coffee, rimani in base, rimani in base ampera in base te, non te li sto shift per alcun motivo se li facciamo anche, è perfetto, è buono, sta arrivando, arriva, arriva, arriva dov'è? coffee, rimani lì, rimani lì coffee, coffee, non ti muovere no, forse hanno capito no, 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 aspetta, aspetta, non rompere i blocchi nooo come hanno fatto? sono in diamanti sono in diamanti nooo sta bene, ma sto punch cosa possiamo fare? niente possiamo morire, ecco cosa possiamo fare o saliamo tipo in altissimo? sì allora, sennò io mi... no, ci stai però con le farbo ah, guardalo, guardalo, guardalo col punch Pablo, non ha senso sta roba ma come fanno a prenderci? no, questi cittano non ha senso sta roba ma se no cosa facciamo? è vero, a me prendevano da dietro i blocchi niente, lui continua a provarci non ci provare, non ha senso niente adesso, lui è a mezzo cuore, continua a provarci ho prenduto i blocchi maiuschi addirittura ce la faccio? Pablo, ci sei? sono atteso dentro c'è chi è? cittiamo? non lo so perché forse la dobbiamo giocare, raga c'è chi è? potrebbero arrivare a quittare pure l'orio sta cercando di rientrare ma c'è un modo per rientrare nelle partite di Sconnesse? sì, sì, sì c'è un modo sempre c'è un modo per tutto a parte questo no, 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 no no, no, no non ce la faccio com'è che faccio a ricollegarmi alla partita? praticamente vai nelle trio e clicca sull'ender per regione partita ok, sì e regione la partita stavi giocando prima ma comunque ci stanno no, no perché che è successo? perché mi dice che sono morto? perché adesso rispondi nooo cosa no? adesso rispondi non rispondo no, il letto si è stato fatto perché ci sono i soggetti no, raga è finito, raga sì, ma questi infami camperano in più hanno i cheat perché non è possibile che hanno sta mira è stato è stato bello la mira stassi un sacco di partite le si taglie leggi tenciate vai, scappi pure te basta sono molto triste sei uscito sì, davvero mi sono buttato dai, buttati aspetta vuoi andare qua? dai, buttiamoci dai, non ha senso c'è uno spada in diamante e hanno fatto uno scambio cofino cosa stai facendo? sì, però adesso dai, però siamo riusciti adesso è possibile che siamo riusciti 60 adesso 25 kill 25 kill e campanerate dalle nostre vai, finendo la partita no, no adesso non vabbè ci vediamo in un prossimo video siamo veramente tanto delusi dall'ultima sì, da doveva i camper fanno schifo giocare così fa veramente schifo veramente vabbè ci vediamo in un prossimo video esiste il parkour probabilmente su minecraft ci sarà anche alex si è unito al nostro gruppo quindi lasciate like bella raga ci vediamo in un prossimo video salutate iscriviti al canale esatto bella a tutti ciao 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 uè bella a tutti